Ehi Google, quanta gente ha comprato Dreams? Ma che cosa sta succedendo, dottore? Perché questo gioco si chiama Smash Bros? Ma che succede? Ma lei dov'è, dottore? Eccolo Basta, basta Ma non le piaceva Smash? Mamma mia però No, Dragon King Smash Bros. Proto type Che bello anche questo 3, 2, 1 Quello è il timer e adesso si comincia a combattere Aspetti dottore, no, quello non si può fare Quanto cazzo ci vuole a rompere quella palla di merda? Che bello Ma lei piaceva Smash un giorno Ci stava un altro Smash migliore di questo No, dottore, si è contenti di questo? No 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 si possa addirittura usare alcune tecniche vere anche se c'è una una mossa a tasto cazzo questa è la next gen dottore super misc bros vai dottore ma non so ma è lo stesso è lo stesso lei muoia dottore di merda deve esplodere il dottore che gioco odioso è il nostro momento questo è esatto questo è quello questo è quello bello queste sono le mappe questo è il gioco vai dottore ecco dottore vai dottore questo è bello guardi che io ho il fuoco guarda io ho il fuoco e tu hai l'acqua chi troppo vuole vaffanculo gioco di merda però dai stiamo andando nella giusta direzione ed ecco qui quello vero ma io sono mario di kirby dai ma le animazioni sono sono rubatissime ma io le attacco di mario per lanciare le animazioni sono rubatissime ma io ho capito io sono mario auto aspetta mario kart nooo perché è spuggente beh finalmente ultimate irochi era ora che qualcuno ne facesse un video gioco eh dottore però non bari eh non cerchi di barare perché questa è vittoria sleale ma stanno fanno nooo maledetto dottor pagliaro dannato dottore cazzo la telecamera donna cazzo mi sto divertendo così tanto che diventa bello anche eh farmi le reti nooo maledetto dottor pagliaro questo non doveva succedere che imbarazzo raro come ma noi asaltato avo tipo questo è bello ma fanno kaino as Resto io stupimo E ha vinto lei dottora Mamma mia E questo però era proprio bravo E' stato proprio bravo Oh è spettacolare In confronto a quello che abbiamo visto fino adesso Ma come è possibile No non me ne è capacito dottore Ma che cazzo è Ma perché non comisce mai Ma bellissimo questo gioco Uno a uno dottore La palla è al centro Esostro Infatti i miei coglioni Stanno girando tantissimo E come A pure di girare l'asse si è un po' Ma perché di là Ma perché attacca di là Ma non funziona mai Ma che gioco di merda Ma vuoi giocare ancora in questa merda Ma come fa adesso a prenderlo Ci ha provato tutto il tempo Che gioco di merda Prego Sì Finalmente Io questo cercavo Ma fai tutto Sì 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 No Sembra quasi un gioco diverso Ma che gioco di merda 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 Grazie a tutti.